Allora il meccanismo delle elezioni americane potrebbe sembrare contorto ma si mette a fuoco immediatamente se uno ricorda un semplice fatto che gli Stati Uniti ovviamente come dice la parola non sono uno Stato ma una confederazione di Stati 50. Cosa significa? Che per eleggere per esempio il Presidente non si può fare un'unica votazione in cui gli elettori eleggono direttamente il Presidente bisogna fare 50 votazioni una per Stato e al termine di ogni votazione si eleggono quelli che in Italia vengono chiamati grandi elettori ma che in America si chiamano semplicemente electors. Sono questi grandi elettori questi electors che poi eleggono il Presidente o i parlamentari eccetera. Quanti ce ne sono di questi grandi elettori ma per ogni Stato uno per ciascun membro del Parlamento che rappresenta quello Stato quindi per il Senato due per ogni Stato per la Camera un numero che varia a seconda della popolosità dello Stato quindi per la California 53 per l'Alaska 1 per esempio. Chissà se un giorno avremo anche noi gli Stati Uniti d'Europa in questo caso ciascuno di noi votando eleggerebbe alcuni grandi elettori che eleggerebbero poi la Presidenza o il Parlamento eccetera oppure se preferite potremmo dire che ciascun votante sarebbe un meta elettore cioè un elettore di elettori. L'utopia di molti, il sogno di molti è avere un giorno gli Stati Uniti degli Stati Uniti c'è un'unica nazione mondiale pensate sarebbe la fine di tutte le guerre giusto? Allora come funzionerebbe? Beh si voterebbero degli dei grandi elettori quali voterebbero dei grandissimi elettori quali eleggerebbero poi una Presidenza o un Parlamento oppure se preferite ciascun cittadino del mondo sarebbe un meta meta elettore. D'altra parte i problemi che si affacciano alla nostra contemporaneità sono problemi globali sono problemi mondiali non nazionali tanto meno locali per esempio il scaldamento globale il cambiamento climatico sono emergenze a cui dovremmo lavorare tutti insieme subito tutti insieme subito invece abbiamo un meta problema cioè i negazionisti climatici quelli che dicono che ma sì d'estate ha sempre fatto caldo ma sì d'autunno ha sempre piovuto ma sì il clima è sempre cambiato e comunque noi esseri umani non sentiamo niente e non dobbiamo fare niente questi sono il meta problema nel senso che rappresentano il problema del fatto che alcuni neghino il fatto che ci siano dei problemi. Roberto Mercadini grazie 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 a tutti.